Allora, oggi sul mio capo direvi una bella cosa. Dato che avevi tre anni che mi scassate la minchia, che ricetti che mi non vai buttare, che vi fatti i soldi, che non mi potete avvenire più, che faccio malo sangue. Mi unghiaio ora. Ora vi metto tutto in tuo culo. Eh, che sbaglio è? A cominciare nel romano vi faccio lavare un doppio della benzina. Così c'è di che scecchia a pagare, e lasciate queste specchie macchine dentro, che fanno il bottello. Tanto io, sogno l'altro, sogno un magnaccio, come ricetti altri. E ora mi fottere per davvero i soldi. A me non può piacere, no? A così se mi faccio. E scusa. Ora mi si dico, dopo che avevi sei anni che ho detto sangue, per l'Italia, per altri altri, e che facete? Ti scassassero sulla minchia. E che sbaglio è? A dire che vi stessero contenti da avere un presidente come il mio. E invece contate la mente. Ma ora va a che finito? Eh, da domani vorrei con io. Vi prendiate le vostre responsabilità e molto e molto vi soccate la cucuzza. A così vi insegnate, che se vi mettete contro il vostro presidente, io vi faccio una macchina. A noi, vi state molto e molto i miei casiti, e mi fate lavorare in pace. da oggi, con dici e mezza parola, ci sparigiano la famiglia. A così vi ammazzate. E vi dico, che se ancora continuate, vi faccio trovare una bolletta della luce, che a Pippa Valla vanno a ammazzare, vanno a vendere i casi, le mogliere, le famiglie, le mutande, e i carocane. E come non vanno? Vi mandano i carabinieri. A così, vi insegnate a dire, che io ho fatto i soldi, che ogni cosa è colpa a me, e una culla da mia. Inghia manco che era, dottorino, oh! Io sono i miei presidenti, io ero uno normale. Mi vieneva a vendere aglio le circonvallazioni. Scusate. E che specchio è?